Allora dicevamo Rudi Veseli e Christophe Dupuis Esce dalla corsia Christophe, però rientra Della MSTO, attenzione! Sentite la turbina, capisca? È incredibile! Il gruppo del team di lattina! Veseli e Christophe Dupuis 710 710 Fuori paracadute 730 è la prima volta 8.7 8.77 8.7 Piatto su BK, 509 Volta qui La braccia Lo Smoking Hot Fabrizio Riccardi Posso andare a chiamare? Sentite come gira il motore? Boxer, Volkswagen Piatto su BK Apriota Piatto su BK Palabri Piatto su BK Giorgio è in bec, passò bellissimo, vediamo! Giorgio è in bec, passò bellissimo, vediamo! Ha vinto, va in lancio, fuori paracadute, 7,40! Eccolo qui, 30 e 6 dalla pancia! Paura per queste due venture! Eccolo qui! Eccolo qui! Eccolo qui! Eccolo qui! Partito solo Mike! Eccolo qui! Eccolo qui! Eccolo qui! Eccolo qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti.